Un esordio positivo per me, non poteva forse chiedere di meglio questo oggi qui al Veneziani contro una diretta componente per la salvezza. Sì, decisamente questi due punti valgono sei, ormai valgono un tocco, sia da tutti i punti di vista, sia da tutti i punti di vista della classifica, sia da tutti i punti di vista della mia squadra che vivono in un periodo negativo, abbiamo un avvo che in questa partita si può cambiare le tendenze, si può cambiare la notte, penso che oggi i ragazzi sono stati con gli abbi, non lo dico perché sono le soli di una serie di spazi, penso che uscire da questo campo, gli applausi, la tribuna, a noi ci rende felice, ci raccoglisce, il merito penso che sia questa grande prova di sacrificio che hanno fatto oggi a tutti, mi sono scuso per quelli che hanno giocato meno, quelli che non hanno giocato, ci sono stati sui compagni nella partita, abbiamo fatto un buon lavoro in questi cambiamenti che abbiamo fatto, abbiamo preparato questa partita, quindi faccio un grande complimentio, grazie per i ragazzi che hanno preparato la partita.